A due giorni dall'incendio, che ha ridotto a cenere gran parte della riserva dannunziana a Pescara, in tanti, soprattutto i residenti della zona, si chiedono quali potrebbero essere i problemi legati all'inquinamento ambientale e se le inalazioni di fumi causati dai roghi possano provocare danni nell'uomo. A rassicurare la cittadinanza, il direttore dell'Arta, l'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente, Maurizio Dionisio, il quale rivela che le centraline di controllo hanno rilevato picchi di benzene nelle ore immediatamente successive all'incendio, ma che questi sono una normale conseguenza dopo eventi di questo genere. Dall'esperienza dei nostri chimici vi possiamo dire che il benzene è la derivazione della combustione degli arbusti di alcune parti della cellulosa degli alberi e quindi rientra in un fenomeno normale dal punto di vista della salute umana, mentre ovviamente è fastidioso per quanto riguarda gli odori. Stiamo continuando le nostre analisi sul campo per vedere se ci sono altre sostanze di natura chimica e quindi pericolose in atmosfera. Situazione che comunque con il passare dei giorni dovrebbe tornare lentamente alla normalità. Non solo, siamo fortunati perché ci sono delle correnti aeree, quindi c'è del vento che permette una più rapida dispersione degli eventuali agenti inquinanti. Laddove ci fosse stata una calma piatta, come nei giorni precedenti all'incendio, forse avremmo avuto qualche motivo in più di preoccupazione. Punta l'attenzione su prevenzione e formazione invece il presidente di Lega Ambiente Abruzzo Giuseppe Di Marco. Sono tanti vigili del fuoco e volontari che sono intervenuti e proprio questi vanno equipaggiati al meglio per far sì che possano svolgere il loro lavoro nel miglior modo possibile, sapendo che i cambiamenti climatici possono modificare gli scenari rapidamente. Non possiamo avere ritardi in questa direzione perché poi chi interviene anche nel momento dell'emergenza deve avere risorse e capacità operative immediate per stringere nel più breve tempo possibile l'intervento. Dall'altro lato c'è anche bisogno di rivedere la gestione delle aree protette soprattutto all'interno delle aree urbane, anche sotto un punto di vista di corresponsabilità perché stiamo affrontando una sfida nuova, andremo sempre più verso temperature calde, c'è il tema dell'emergenza climatica, quindi affrontiamo uno scenario completamente diverso rispetto a quello che è stato negli anni passati. Quindi anche noi dobbiamo interpretare al meglio questa esigenza e mettere in campo i dovuti interventi perché non possiamo mettere a rischio la salute pubblica.